... Davanti a Lesse Luca non passate con l'aciclabile! Non passate con l'aciclabile! Ti voglio far capire! Perché non passate davanti a Lesse Luca? Non passate solo il caneta, solo il caneta, solo il caneta, solo il caneta, e quindi è quello il problema, mica il parcheggio. Perché vanno a parcheggiare davanti alla porta del supermercato e comprono lì. No, non per quello, perché è più comodo, costa meno, perché vanno davanti con la macchina e comprono lì. No, non per quello, per il prezzo vanno al supermercato. La gente non viene al mercato per il prezzo. Dalle statistiche, una volta, l'85% della popolazione di Como faceva la spesa al mercato. Adesso fanno ancora 12, 13% perché ci sono i supermercati. La grande distribuzione... E allora voi per agevolarti fatela ciclabile. Allora fate una bella roba, daccici una pensione che non gli occorre delle scatole. No, non spogliamo il mercato e non gli spingiamo. Il mercato è il mercato, esatto. E cioè, quante l'aciclamine davanti al mercato? Ma non esiste. Ma quello sono più consapevole. Sarà anche la sporte, ma non è il parcheggio. Anche perché, domanda, 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 domanda. Quanta gente parcheggia qui, che viene subito a parla spesa, quanto parcheggia va a farci giro in città? Quanta gente. Anche? Beh, allora, non vuole una direttiva. Però bisogna vedere. Facciamola di là, facciamola un'altra via. Però il problema del mercato, il supermercato, beh, magari uno cresce. No, no, no. Vede tante cose insieme. Quanta da passare davanti all'Esse Lunga, davanti all'Ibio, è un'acciclabile. E ci passi una navetta gratuita.